associazione nazionale cartoon coverland lucca comics and games 2017 siamo in compagnia di una delle finaliste del cartoon music contest qui a lucca da poco terminato si loro sono the team rocket band ciao ragazzi ciao ciao ma adesso conosciamoli uno ad uno con i rispettivi strumenti o alla voce io sono matteo e sono la batteria daniele tastiera simone voce simone chitarra luca basso ragazzi quando si è formata la band e dove circa tre anni fa ma il dove una domanda a smeraldopoli smeraldopoli ovviamente no smeraldopoli e infatti io infatti avevo letto anch'io smeraldopoli quindi legame con pokemon ufficiale ufficiale perfetto chi ha fondato la band facciamo finta che visto che sono il capo l'ho fondata io no in realtà io sono l'ultimo arrivato l'hanno fondata questi due questi due qui simone no allora in realtà la band nasce dalle ceneri di un'altra cover band cartoon cover band che però boh poche prove pochi concerti allora abbiamo rinnovato un po l'organico e niente gli unici della formazione originale siamo rimasti io e luca e e niente siamo qua grandi quindi il chi è stato io questa è una domanda che faccio che ho fatto un po tutti chi è stato il primo che vi ha seguito dopo la dopo l'idea chi è stato il primo a legarsi al fondatore o ai fondatori che senso il primo elemento a essere stato preso dopo si tra voi sono stato io la sapevo questa sapevo di sicuro come ti ha convinto è venuto da me un giorno al liceo facevo la stessa scuola e mi ha detto ci serve un bassista per una cartoon cover band io ho detto eccomi perfetto guarda io quello che dico un po un po tutte le cartoon cover band tutti i geni sono splendidi perché comunque la musica è bella 360 gradi però quello che rende speciale la nascita di una cartoon cover band è proprio la motivazione da cui parte l'idea e cioè comunque una riminescenza è un legame di questo genere alla nostra infanzia la nostra adolescenza giusto simone sì assolutamente sì tant'è che noi abbiamo lasciato da parte le sigle anni 80 che non fanno parte della nostra adolescenza e abbiamo puntato più su quelle anni 90 2000 che per quanto possano essere più dance o magari anche con un pubblico differente perché alla fine è stato un po un azzardo anche per noi però fanno hanno fatto parte della della nostra infanzia siamo tutti degli anni 90 per cui siamo lì assolutamente sì un aneddoto dopo la nascita della band un aneddoto o un live che vi ricordate particolarmente allora il live io direi credo per tutti il vinaglio comics che è stato il primo comics a credere in noi ci hanno presi a scatola chiusa mai suonato prima e continuano a chiamarci da tre anni quindi speriamo di esserti piaciuti l'aneddoto è che lui è sempre in ritardo ma sempre 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 anche stamattina quando siamo partiti per venire qua addirittura e quindi è qualcosa mi fa cronica sì sì cronica ma totalmente vabbè da colore è anche una forma di colore ragazzi tornando invece nella location dove ci troviamo attualmente ricordiamo che voi siete l'unica band intervistata post contest loro loro vedranno loro vedranno l'intervista quindi dico sempre come una macchina del tempo ovviamente dopo che avranno ovviamente visto sia su web che attraverso il video che abbiamo ripreso integralmente la chi è stato il vincitore che ovviamente vogliamo dire l'anvistar assolutamente meritato sì questo fifa onore io quello che ho detto a tutti anche ovviamente a tutte e tre che abbiamo intervistato prima la gara l'agonismo è un pretesto perché poi quello che accadeva questa sera doveva essere uno show di quattro cartoon cover band per il pubblico luca comics dove comunque alla fine chi quello che viene trasmesso è quello più importante oltre alla gara giusto sì assolutamente sì tant'è che meno sento di parlare a nome di tutti nel dire che eravamo già contentissimi di suonare su questo palco a prescindere dai premi dalla vittoria e tutto quanto certo l'agonismo l'agonismo comunque ti fa anche dare il massimo però però abbiamo suonato abbiamo dato tutti il massimo e siamo siamo soddisfatti di questa cosa ha vinto lo sport bisogna dire bravissimi ovviamente chi ci sta guardando non lo non lo può sapere ma vedrà la foto c'è stata una splendida foto di gruppo questo anche a dimostrazione dello spirito che c'è che c'è stato qui a luca comis che con le quattro cartoon cover band ragazzi però a proposito i premi c'è qualcosa che voi avete in mano dc cosa avete vinto abbiamo vinto due premi il premio imp che sito che commercia merchandise rock varie e cioè pensiamo di essere piaciuti per il fatto che siamo un po dei rocchettari diciamo guarda io ho la cintura della mp e la maglietta perché se queste scarpe lo comprate apposta per la team rocket band da amp su amp quindi è stato casuale no no è proprio l'ho voluto è stato casuale l'ho ammetto però vuol dire che ha della bella roba sicuro sicuro quindi comunque ragazzi noi di karton coverland vi facciamo i nostri complimenti non solo per il premio ma anche per l'esibizione e lo spirito che avete dimostrato insieme insieme a tutti i vostri colleghi musicanti tutta l'associazione nazionale karton coverland vi augura merda 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 per i vostri futuri live e in bocca al lupo per tutto crepi crepi non grazie un saluto a tutti i nostri amici ciao ragazzi